ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi faccio un video per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da cosmetic for less ho fatto un ordine mi è arrivato in pochissimo tempo come al solito e c'erano delle cose abbastanza scontate quindi volevo farvi vedere ho messo tutto in questa busta quindi vi faccio vedere perché già ho buttato il cartone era troppo ingombrande eccetera allora la prima cosa vi faccio vedere è questo set della essence dove ci sono dei lipstick per quanto riguarda sono dei matt lipstick matt liquid lipstick della essence che riguardano i giorni della settimana quindi abbiamo dal mondo e dai lunedì fino ad arrivare alla domenica devo dire che i colori mi piacciono tantissimo ovviamente li devo utilizzare io ne ho sbocciato soltanto uno per farvi vedere io ho utilizzato il monday questo qui viola per farvi vedere la pigmentazione ma in caso poi vi metterò una foto ed è questo colore qua l'ho messo poco fa proprio per vedere la colorazione tutto già si è seccato si già si è seccato certo un pochettino ancora sta scrivendo però si sta seccando e quindi vi metterò la foto degli swatch di tutti questi perché non posso mettermi qui a farvele vedere tutti perché sennò finiamo domani mattina poi andiamo a vedere quanto è costato questo set perché ho qui la fattura è costato 12 euro e 95 poi sempre per quanto riguarda la essence ho preso due set di rossetti piccolini perché questi devo fare dei regali e quindi li ho voluti prendere abbiamo un set allora uno è questo che chocolate mini lipstick dove ci sono quattro rossetti tutti a base nude che sono questi e poi l'altro invece è candy mini lipstick dove ci sono rossetti sul nude rosa e rosso questi sono i due set che ho preso uno è questo qua e uno è questo sono molto carini sono piccoli rossettini anche per le persone le ragazze diciamo che stanno iniziando a truccarsi sono molto molto belli questi set io l'ho presi a quattro euro scusate quattro euro e 95 ognuno esatto poi per la mia mania di delle spugnette di beauty blender per quanto riguarda la essence ho preso questa qui rosa perché io posseggo già quella arancio e siccome questa sia un po' rotta mentre la stavo lavando perché la volevo utilizzare per fare video mi trucco con i prodotti della essence si era rotta e ci sono rimasta malissimo e quindi ho voluto prendere la sorellina per fargli compagnia e sapete tutti che io le collezione le spugnette e quindi l'ho voluta prendere poi c'è troppo carina fucsia mi piace tantissimo e la spugnetta è costata la spugnetta è costata la super beauty sponge è costata 2,95 euro poi andiamo avanti e ho preso due prodotti della linea dei cristalli credo che sia che sono questi due qua uno è un illuminante a roll on che è questo che adesso vi faccio vedere che sarebbe questo qui vedete l'illuminante dorato che è questo si vede benissimo questo qui l'illuminante dorato che è il glove my my mind 2,95 euro e poi ho preso un scusate non vi ho fatto vedere vi ho detto roll on proprio perché ha questa sfera vedete la sfera così potete applicarlo sia per quanto riguarda gli zigomi sia per quanto riguarda il naso oppure se lo dovete applicare anche sul corpo e poi ho preso questo topper un lip topper per quanto riguarda le labbra che assomiglia tantissimo a quello di wicon che ho preso guardate glitter sono fantastici veramente fantastici e l'ho preso perché lo volevo abbinare all'illuminante di wicon questo è una coppiata fantastica e quindi non vedo l'ora di utilizzarlo proprio per vedere come si comporta e questo lip topper 2,25 euro scusate e vi faccio vedere lo swatch che è questo questo qua questo è lo swatch cioè guardate che glitter giganteschi che c'ha proprio belli 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 veramente poi andiamo avanti e vi faccio vedere altri prodotti allora per quanto riguarda la essence ho preso un pennello sapevo che accadeva ho preso un pennello di un'edizione limitata sempre la glove my mind ed è questo c'è scritto che è un highlighter brush ma sapete tutti che io colleziono i pennelli della essence perché mi piacciono tantissimo questo fa due colori diciamo il bianco e il rose gold e le setole sono abbastanza fitte quindi è morbide è molto molto belle però c'è qualche pelo qui che è messo in alto insomma devo dire che non è tanto bello vedere questi peletti così però può essere lavato si sistema ancora io non l'ho lavato è molto morbido questo lo devo dire molto molto morbido il pennello 3,45 euro il pennello è costato 3,45 euro poi allora prima di tutto vi faccio vedere che ho preso due correttori per far sì che il pigmento oppure l'ombretto che metto sull'occhio risalti di più quindi mettendo una base bianca abbiamo diciamo un risultato maggiore per quanto riguarda la pigmentazione e il colore specialmente se utilizziamo dei colori tenui come color pastello quindi ho preso un correttore un correttore della Pro Artist che se non mi sbaglio è della Freedom questo qui della Freedom è un concealer Pro HD Longwear ed è costato 1,26 euro nella colorazione ovviamente white che vi faccio vedere subito perché lo voglio aprire ed è così con il pennellino si vede? sì e vediamo il prodotto si sta uscendo ed è bianco bianchissimo devo dire ed è bianco ed è questo e questo voglio vedere se i colori risaltano di più in base diciamo al correttore che viene messo al di sotto adesso vediamo se asciuga un altro correttore sempre per la stessa storia ho preso questo qui di Revolution Concealer e Corrector ed è un correttore liquido sempre per la stessa situazione proprio per vedere la pigmentazione per quanto riguarda gli ombretti che dobbiamo mettere al di sopra vediamo se riesco a toglierlo tutto vabbè mi si attacca tutto nelle mani ma comunque allora vediamo il correttore è fatto sempre con il pennellino gigantesco che viene come tutti i correttori e questo è molto più denso come colore quello era molto più liquido questo è molto più denso come tutti i correttori di Revolution e questo è il colore si si vede che è molto più bianco vedete allora si vede che quello di sopra ha una patina leggera invece quello di sotto è molto molto più bianco vedete così si vede bene quindi devo provarli e vedere come come viene l'applicazione come viene l'applicazione scusate allora il dove è? Makeup Revolution Concealer 2,08 questa è nella colorazione white quindi bianco poi ho preso una matita questa dovrebbe essere per l'interno occhio se non mi sbaglio nella colorazione panna ed è una Revolution Pro è una matita ho visto un sacco di ragazzi utilizzarle americane ovviamente ed è della Revolution Pro vediamo dove è messa Revolution Pro eyeliner pencil sì è in gel ed è 1,39 euro è nella colorazione nude quindi vediamo la colorazione perché mi serviva una matita mi serviva proprio un parolone all'interno dell'occhio che sia un color nude che risalta diciamo i colori del cioè ingrandisce l'occhio cioè ma vi rendete conto che sto litigando con questa pellicina qua? ok allora la mina è questa e adesso vi faccio vedere lo swatch sì è molto morbida vediamo come viene e il colore è questo qua è un color nude proprio adatto all'interno dell'occhio molto molto bello si vede? è che le luci sono forse forti vedete così si vede anche meglio sono le luci abbastanza forti un'altra cosa che ho preso è un primer un primer della Revolution di questo ho sentito parlare tantissimo sia da Giulia Cova che da altri youtuber qui su su Youtube e quindi l'ho voluto prendere un primer idratante quindi adatto per pelli secche e mature quindi la mia ed è costato 4,84 euro questo ovviamente non vi so dire quindi vi farò sapere in futuro quando lo utilizzerò vi volevo dire che mi hanno regalato questa pochettina qui che è così della linea Lenny Brush molto molto carina è nera con la cinturina qui con la giarniera rose gold e anche il cinturino qui il cinturino la la medaglietta è rose gold all'interno è normalissima una pochettina normalissima tutta foderata di nero ed è molto molto carina potete mettere i pennelli o qualunque cosa voi vogliate per finire vi faccio vedere vedete il naso rosso perché l'ho soffiato allora per finire vi faccio vedere 5 prodottini per quanto riguarda Inglot sono entrata fissa con questa marca perché ho visto tramite youtuber americane questi ombretti della Inglot non sto leggendo sto cercando i nomi e ho preso 3 prodotti che riguardano Jennifer Lopez tra cui 2 blush e un contouring quindi il packaging è questo dei prodotti vedete Jennifer Lopez e ho preso 2 blush e come vi ho detto è un contouring uno sculpting quindi vabbè un contouring parole povere allora i blush venivano 12,95 invece lo sculpting veniva 12,56 allora i blush in questione sono questi e ho preso rosy e charmed ve li faccio vedere non so se li utilizzerò perché uno non credo che non sia adatto proprio alla mia colorazione però devo vedere uno è questo e questo è rosy questi sono i prodotti che utilizza Jennifer Lopez poi già siamo a 16 siamo a posto quindi già e questo è charmed credo di farvi le foto forse è meglio così li vedete meglio perché ho la luce e sto registrando di sera quindi e questo è charmed che è un colore più scuro devo vedere se questo colore diciamo sta bene con il mio incarnato perché sennò farò felice mia sorella perché li do sono a lei invece quello per lo scouting è cocoa 5 io avevo preso altri blush altri ombretti ma non ci sono riuscita mi hanno fregato questo potrebbe anche andare questo è il cocoa 5 e questo serve per fare il contouring devo dire che è molto molto bello il colore ed è questo poi gli ultimi due prodotti che vi faccio vedere sono sempre di Inglot ma sono dei pigmenti e sono dei pure pigment e shadow che sono questi qua e i pigmenti di Inglot sono costanti i pigmenti di Inglot sono 11 euro e 19 allora io ne ho presi due perché quando li ho messi nel carrello come vi ho detto poco fa me li hanno ciucciati subito e quindi ne ho potuti prendere due ho preso il 45 e il 71 vi faccio vedere il 45 ovviamente li ho presi perché mi piacevano il colore e ovviamente li voglio utilizzare questo è il packaging del pigmento e questo è il colore devo dire che è un bellissimo colore questo è il colore allora ha dei riflessi particolarissimi mamma mia è pigmentatissimo oddio ora mi sporco tutta il colore è questo assomiglia a quello di Natasha De Nona guardate che ombretto c'è qua c'è vedete wow c'è guarda ha tanti riflessi rosa giallo verde è bellissimo veramente molto molto bello guardate il dito ancora pigmentato stupendo 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 non vedo l'ora di utilizzarlo e voglio fare un make up proprio con questo colore e l'altro che ho preso è il numero 71 aspettate che scusate ve lo apro io non li ho mai utilizzati quindi li voglio provare ed è questo bellissimo è un verde oddio tipo sembrerebbe tipo un verde pavone non lo so guardate qua che pigmentazione è pazzesco cioè pazzesco lo appoggio solo il dito perché ho paura di trascinarmi tutto tutto il pigmento guardate questo è il pigmento cioè guardate che luce che fa è una cosa pazzesca 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 ovviamente ve lo sto sfumando perché è normale che non mettete il pigmento così e questo è il colore cioè guardate qua che cos'è guardate cioè è una cosa è una cosa fantastica fantastica cioè non vedo l'ora di utilizzarli guardate il giallo guardate no no è stupendo stupendo non vedo l'ora di utilizzarli per vedere proprio come sono realmente perché se è così la prossima volta che troverò gli sconti perché questi erano scontati la prossima volta che troverò gli sconti li prenderò proprio a occhi chiusi sinceramente allora il primo che vi ho fatto vedere è quello della Pro Artist è trasparente allora sono ancora umidi vedete umidi questo un po' meno sì ma sono un po' appiccicosi credo che vedete li ho toccati ovviamente con il pigmento di sopra dovrebbe essere fantastico cioè ma guardate ma guardate no no lo devo fare allora di questo io non mi ricordo se già il video ve l'ho fatto di Sephora dove ho acquistato l'ombretto in crema di Natasha Denona fantastico sembra uguale uguale lo devo provare e quello ovviamente costa molto di più devo provare se sono uguale vi farò sapere vi farò sapere allora questo mi è piaciuto tantissimo oltre i rossetti liquidi di Essence che li proverò e quindi vi farò la foto direttamente ma questi ne vogliamo parlare cioè di questi ne vogliamo parlare cioè sono fantastici veramente tutte le mani sporche allora per quanto riguarda questo video io ho finito spero ovviamente che i miei acquisti vi siano piaciuti ditemi cosa ne pensate anche dei prodotti di Jennifer Lopez se l'avete acquistato anche voi ditemi come vi trovate ovviamente io per quanto riguarda Makeup Revolution sì Makeup Revolution ciao Stefania allora sono esattamente le nove perché stai facendo così sono le nove di sera forse perché alle nove e mezza già io sono a letto di norma allora per quanto riguarda gli acquisti fatti dai Cosmetica e Forless è tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video sfolliciate e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti